Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Bella questa! Tutto quello che vedo è iscritto comunque Eccoci qua Qua, e guarda la mia pagina qui E guarda qui Perché non voglio vedere la sua pagina? Non voglio vedere Lo so benissimo che sto così per la... Mi ha... Vabbè, dai, è ovvio Mi ha... È partita la loro tour e poi è stato tutto un... Il fan text mi aveva sbagliato, mi ha fatto notare certe cose Poi c'è stata la rottura e poi il roaming Sono state una serie di cose che mi hanno... Destabilizzata tanto Ma è proprio il periodo Fanculo Ma... Ripeto, non è mai stato Twitch Non è mai stato Twitch Sono sempre le cose off Ok, ho sempre seguito sporadicamente tramite freebooter Poi da vista RomX ho voluto chiederti la foto più... Per avere un contatto umano che con una persona per vedere dietro uno schermo che per altro Oggi ho seguito la live dall'inizio e ho contestualizzato molte cose che ho espresso con sincerità che ma... Comunque dicevo, scuadami Da quando siamo andati al Fanta Expo c'è stato... Ho conosciuto dal vivo Più content creato appunto, più streamer, più colleghi se vogliamo Ed è stato bellissimo È stato veramente bello Cioè... Vederli come persone al 100% Eccoci qua Allora, a posto Eccoci Ciao Ciao Grazie per l'ospitalità gentilissima E per tutto quello che stai facendo oggi Ti ringraziamo a nome di tutti i volontari Siamo a 60 Quindi insomma era un po' difficile esserci tutti oggi Certo, certo Ma in generale ti ringrazio a nome di tutti Grazie a voi, grazie a voi per aver accettato Perché so che comunque magari puoi mettere un po' a disagio Non conoscere bene il media o cose di questo genere Quindi mi fa piacere anche che comunque sei venuto a venire Raga, non sono Michelle Non piango per... Dovete farmi piangere qua? Mi ha fatto piangere tutto questo Tranquilli Non so neanche più ballare dopo un anno Livello 9 Grazie mille Pino per le 20 sub Grazie mille arrivo Grazie mille Mosca per il secondo mese Grazie mille Alessio per le due sub Porti bene questo anno di vita Lo porto... Mi fa piacere Mi fa piacere Raga ho capito che... Allora Thank you so much Pino Mi raccomando se avete ricevuto la sabbia regalo da Pinociowski Succhiate il cazzo Grazie mille Quentin per la sabbia regalo da Federico Grazie mille No, sono state dei pezzi di merda Sono state dei grossi pezzi di merda Come tolgo? Tolgo? Che altro devo fare adesso? Posso togliere? Ah quella la sicurezza che non... Ah ho capito Che non... Non svegliasse la soluzione Vabbè non la sta... Non... E va anche la parola nascosta Ok Posso togliere? Aspetta Quest'è Non devo fare altro Quindi faccio sta roba Faccio passo 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 Inizio anche ad allungare un pochettino il passo Inevitabilmente risulta come Persona incazzata a merda Scazzata a merda Che stronza che vuole fare quello che si dice lei No? È ovvio che è così E... E dai ho detto... Poi un po' spiegare le cose Perché vi giuro che farò un discorso imbarazzante Grazie per l'anno che mi ci hai fatto passare Mi ha fatto molto piacere scambiare due parole con te a Romix Anche io non sto passando un bel periodo Ma grazie alle tue live mi sento un po' meno solo Grazie a El Mi fa piacere Thank you so much Grazie grazie E sarà un discorso estremamente imbarazzante Che vi giuro è ridicolo È veramente ridicolo Perché io... Ok ok Rimetto Hai capito? Che merda Non so azzardare a metterla là sta davanti Diritti zero esatto Cracco si fotte raga Poi non lo vediamo da una vita Cracco Riparto con il quiz ok Poi Qual è stato il primo piatto cucinato nel format TRL in cucina? Sacrifici Messe in gioco Incredibilmente fatte bene Tanti auguri boverita per il tuo anno di Twitch Sprega Elena E congratulazioni per il tuo anno su Twitch Spero che in questi 12 mesi tu abbia raccimolato i miei 5.000 euro che mi devi E che mi li restituisca molto presto Voglio aprire uno di fans Sento quell'impulso di aprirmi uno di fans Sapete? Vorrei tanto aprire uno di fans e infilare aghi nei cazzi Più che altro è un po' come il solito discorso di quando ti mandano il cazzo in chat Nel senso che cosa ti aspetti che dico? Oh mio Dio voglio succhiarlo! Cioè cosa? Che risposta ti aspetta? Sono una persona molto sicura su quello che fa Quindi io so che se tipo sono qua adesso dopo un anno di Twitch È perché me lo merito Fanculo No veramente Ho fatto 250 Io ho fatto 200 euro al mese raga Vaffanculo Me lo merito Quindi non ho Non ho veramente Non ho la sindrome dell'impostore È più Una sensazione da Sono pur sempre una Cioè sono Sono la stessa web di merda che è la Cioè Facciamo tutti cacare In realtà ti tempiamo per farla piangere Ok Video Voghe Bella Oh La mia Cioè Ehm Piangi siamo di merda Scema Scema Vaffanculo Scema No Scema 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 Non ce l'hai nemmena Sveglia Bravo Elena per l'anno Passato Su Twitch Sono Vallo Sturgnolo È bello Quella è la frase Quella è la cosa cringe che dovevo dire Grazie Thank you Emir Per il quinto Onram per il quarto Natch per il decimo Wow Quasi dall'inizio Smon Per il quarto Lotus Però sto bregato Thank you so much Ragazzi È che io vedo Vedo Dario farlo super veloce Mi sono sentita Posso dire Una A fare sta roba Grazie Grazie mille Samuel Per il secondo mese Thank you so much Grazie mille Grazie mille Mi sono sentita molto 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 in difetto Vedo di solito Tutti i big streamers Quando speedrun Grazie per questo Questi cazzi